antiche monete cinesi degli imperatori nella moneta di sinistra vediamo l'imperatore canxi 1662 1722 nella moneta di destra è raffigurato l'imperatore kianlong 1736 1795 le monete pesano 20 grammi cada una e hanno un diametro di 39 millimetri il dragon lingua cinese chiamato long è un animale fantastico molto importante in cina nella cultura cinese questa creatura è simbolo di saggezza potere fortuna a differenza dei draghi occidentali quelli orientali sono generalmente considerati creature benevole e gentili